a porco di capelli down e vabbè allora buonasera ciao ragazzi porco di capelli down noi stiamo come vi ho detto vi ho detto ieri stiamo a campo basso a presentare alla sala celestino vabbè di campo basso celestino quinto a porco di capelli down e oltre a presentare il libro colpa di chi simon me lo apri uno così magari lo faccio vedere e aspettiamo i nostri ospiti e poi vogliamo a porco di capelli down parlare io padre luigi e simona salvi che la la dottoressa di l'assistente sociale di tortoreto parleremo anche della sindrome turrette e colpa di chi questo libro che a porco di capelli down che ha dentro insomma la mia vita quindi tutta la mia vita è correlata tra correlati può dire correlata unita tra la tossicodipendenza tante altre esperienze particolari e chiaramente la sindrome turrette fa parte della mia vita perché io quando avevo sei anni ho avuto questa malattia questa patologia e me la porto fino adesso quindi io mi auguro che tutto andrà bene e spero che mi fate una bella preghiera a tutti quanti e ciao a tutti ci sentiamo dopo grazie grazie